E così fece, ma non fu di giorno. Una notte, egli riuscì a impadronirsi di un paio di forbici del burattinario. Tagliò uno dopo l'altro i fili della testa, delle mani e dei fili e disse a Arnecchino, vieni via con me. Arnecchino non voleva sapere se passi da Colombina la sua mamma, ma Polcinella non aveva per niente intenzione di portarsi dietro anche quella smorfiosa che in teatro faceva sempre brutti scherzi. Andò da solo, decise, si gettò, volatricamente per terra e via, a gambe levante. Che bellezza, pensava correndo, non sentirsi più tirare da tutte le parti, da tuoi maledetti fili. Che bellezza mettere il piede proprio nel punto dove si può.